Oramai è sicuro? La sede di Tua rimarrà a Chieti. Marcia indietro quindi rispetto alla prima intenzione di accorpare la sede teatina, quella di Pescara. Erano indiscrezioni prive di fondamento quello che ipotizzavano un atteggiamento punitivo nei confronti di Chieti. Sin dall'inizio abbiamo fatto una valutazione che era prettamente tecnica ed economica circa la possibilità di mantenere la sede nel luogo specifico in cui era, ma contestualmente abbiamo anche creato le condizioni per avere dal territorio chietino manifestazioni di interesse e ci siamo raccordati con il sindaco di Chieti per rendere ciò che dobbiamo fare coerente con ciò che il trasporto pubblico locale a Chieti aveva deciso di mettere in piedi. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale secondo cui il capoluogo chietino non avrebbe potuto rinunciare al deposito del trasporto pubblico. indipendentemente dalla struttura che ora lo ospiterà. L'obiettivo raggiunto abbiamo trovato una perfetta intesa con la società che ha, perché non aveva d'altronde interesse di andare via da Chieti, ha messo soltanto a punto quello che era il proprio di progetto, cioè avere una sede più adeguata. Per noi l'interesse unico era quello che rimanesse su Chieti, abbiamo avuto questa assicurazione, sappiamo che sarà un investimento nuovo addirittura su Chieti, quindi per noi ovviamente il capitolo non solo è chiuso, ma è chiuso con grande soddisfazione per la città. Non accenna a placarsi però la polemica a distanza tra il presidente Giulianti e la proprietà dell'attuale sede Teatina. Giulianti infatti aveva dichiarato che di lì bisognava andarsene a causa della pericolosità dell'amianto, ma il proprietario dello stabile, Federico Gallucci, aveva mostrato alle nostre telecamere la documentazione che testimoniava i lavori di messa in sicurezza. L'amianto c'è, è lo stesso Gallucci a dirlo ripetutamente. Sostiene che nel 1996 ha sostanzialmente creato condizioni per cui lo stesso non fosse pericoloso. E il fatto stesso che sia stato messo dal 1996 e che il fibrocemento ha una garanzia 10-15 anni, e qui stiamo parlando di oltre 23 anni, è stato uno degli oggetti di valutazione da parte di chi ha ritenuto che, diciamo così, la pericolosità astratta fosse un dato di cui tener conto. Tua è quindi alla ricerca di una nuova casa. A tale proposito è stato pubblicato un bando che ha già riscontrato due dimostrazioni di interesse, anche se al momento non è stato svelato da parte di chi. Quel che è certo è che non esistono aree demaniali adatte e che quindi Tua continuerà a pagare l'affitto a un privato. Caso curioso, l'attuale sede, ritenuta non più idonea, potrà partecipare anche essa al bando in quanto rientra nei criteri previsti. In ogni caso Tua rimarrà chieti, anzi l'azienda pubblica attuerà ben nove interventi sul comune teatino, per cui sarebbero già state individuate le risorse necessarie. Noi abbiamo già 15 milioni stanziati per la realizzazione della funivia con il masterplan. Ci sono complessivamente 5 milioni per tutti e 9 gli hub del trasporto pubblico in regione, stanziati per la ristrutturazione degli hub del trasporto pubblico. Ci sono 5 milioni che sono quelli che noi abbiamo dal decreto periferie per il raddoppio del parcheggio di via Gran Sasso e per la realizzazione della nuova scala mobile che collegherà il parcheggio con il centro storico.